Sì, sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la tradizione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Atmosfera pre-party, poi partita da party, con tanto di inno italiano, inno bianco-rosso e saluto ai vari protagonisti di questa stagione memorabile per poi proseguire la festa lungo il porto della città. La partita reca un Rimini davvero devastante, la Correggese manca l'appello e si vede subito quando Simoncelli apre per Goyebre, attraversone al centro per il terzo sigillo in campionato per l'ex Samaurese. Davvero gol, tutti da incorniciare per lui in questa stagione. La risposta della Correggese perviene per via di Tacconi, che non inquadri il bersaglio. Da Connor, il Rimini insiste, Romagnoli tenta la volere senza incidere. In contropiede l'ex pianese Mammetti, invece dall'altra parte, prova a colpire, ma Scotti si mostra, come al solito, superlativo. Dalla bandierina ai bianco-rossi si fanno nuovamente pericolosi con questa conclusione sotto misura di Visi, che si spegne alta. Viti, dopo una discesa invidiabile, apre per Ambrosini. Qui tiro viene respinto in corner dall'attento Sarri. Rimini ancora in pressione, diagonale di Viti, bloccato da Sarri in due tempi. Traini va vicinissimo a bersaglio, su questo traversone di Pasquini, la deviazione dell'attaccante di testa, trova sulla propria strada l'ottimo Sarri. La Correggese, nei finali di tempo, perviene al pareggio. Incredibile, Tacconi serve Sereni, che infila l'incolpevole Scotti, lasciato solo soletto. L'attaccante della Correggese può pervenire tranquillamente al pareggio. Allora Rimini prova a rispondere da subito, con Pasquini che mette a lato. Poi Simoncelli tenta il pallonetto, ottima la scelta, peccato che la sfera sbatta sul palo prima di essere recuperata da Sarri. La pressione dei biancorossi prosegue anche nella ripresa. Ambrosini colpisce in pieno volto, a distanza ravvicinata, un avversario. La risposta arriva da Rizzitelli con un tiro velenoso deviato in corner. La Correggese, mai pervenuta se non per i gol, subisce dannatamente. Prima Traini e poi Ambrosini alzano la mira. La palla sembra davvero non voler entrare, ma Vite al 27esimo della ripresa apre per Cicarevic. Il Montenegrino, come in occasione dei gol al Romagna centro, va via sulla fascia di sua competenza per poi accentrarsi e infilare Sarri sul proprio palo. 2-1, nuovo sorpasso, biancorosso. Rizzitelli già in gol all'andata, prova a ripetersi ma senza fortuna. Scotti nel finale viene chiamato in causa su questo tiro di Tagliavacche e su questa conclusione debole di Lani. Buonaventura vuole esigilare al meglio la stagione, ma Sarri li nega la gioia dei gol prima che tutta la squadra riceva la coppa al centro del campo e la alza in cielo assieme ai palloncini tergatici del suo proprietario. E qui la festa cantava Giovanotti, direi proprio di sì, vista la stagione dei Rimini.